Musica Ci spostiamo nel quartiere di Librino dove proseguono i lavori per la realizzazione di un'opera d'arte moderna che l'associazione Fiumara d'Arte ha deciso di regalare alla città di Catania. Una squadra di operai e artisti stanno lavorando per realizzare infatti la porta della bellezza. Nell'operazione sono stati coinvolti anche i ragazzi delle scuole elementari e medie di Librino. Prende forma piano piano grazie al lavoro certosino di una squadra di operai che vi lavorano alacremente da più di un mese la monumentale opera d'arte che sta sorgendo sull'asse attrezzato. La grande arteria viaria che taglia in due Librino. Il 15 maggio, giorno del suo battesimo, il muro che regge la struttura non sarà più solo cemento. Diventerà invece una porta, la porta della bellezza, simbolo dell'apertura verso il futuro del quartiere che vuole scrollarsi idosso l'onta di essere definito satellite. L'idea di far trionfare l'arte in un contesto marchiato a fuoco dal degrado è venuta alla Fondazione Fiumara d'Arte di Antonio Presti che ha coinvolto i ragazzi delle scuole elementari e medie di Librino nel progetto di realizzare una monumentale opera d'arte. Nel corso dell'anno scolastico 2007-2008 gli alunni hanno lavorato, a fianco degli artisti che hanno dato il proprio contributo creativo all'iniziativa, alla creazione di tanti piccoli bassorilievi in terracotta, ispirandosi al tema della grande madre, tema scelto dalla Fondazione Fiumara d'Arte come veicolo di riflessione sul ruolo della donna nella società contemporanea. La madre, immagine archetipica e paradigmatica della fertilità, della forza, della nascita e della rinascita, della bellezza, dell'amore che equivale a speranza e riscatto quando riesce a rendere migliori gli uomini e la società e a liberare dalle catene delle ingiustizie e del dolore. Valori che rappresentano l'acqua necessaria per far crescere il germoglio del cambiamento che a Librino sono i giovani a coltivare, poi gli stessi giovani che comprendono attraverso l'arte quanto possa essere forte ed insostituibile il potere della creatività per intraprendere il cammino della rinascita del loro quartiere.